Idrocarburi nel depuratore, arrivati tramite la normale condotta fognaria, e quanto hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, unitamente al personale specializzato della Capitaneria di Porto di Gioria Tauro, nel corso di un'attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, e scattata di conseguenza il sequestro di un ingente quantitativo di rifiuti liquidi contaminati da idrocarburi nell'ordine di circa 87.000 litri. Le operazioni, finora condotte dal gruppo Guardia di Finanza di Gioria Tauro e della Capitaneria di Porto, anche grazie al contributo delle precauzioni adottate dal gestore del depuratore, hanno consentito di sequestrare le pericolose miscele inquinanti, evitando così lo sversamento in mare e potenziale danneggiamento dell'intero ecosistema marino. L'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, condotta in maniera sinergica da Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, è frutto di un tangibile e costante impegno istituzionale di presidio realizzato a tutela del territorio anche nel settore ambientale, al fine di prevenire e fronteggiare ogni comportamento non rispettoso delle procedure legali di smaltimento dei rifiuti.